Siamo alla pagina dedicata all'aggiornamento coronavirus. Obbligo della mascherina all'aperto perché l'epidemia sta salendo. Nuovi contagi in tutta Italia. Il ministro per gli affari regionali annuncia la possibilità di qualche lockdown territoriale. Il servizio di Alba Adipalo. Continua a preoccupare la curva epidemiologica in Italia dove negli ultimi due giorni sono stati registrati più di 5.000 nuovi contagiati. E i dati contenuti nel report realizzato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità e relativo alla settimana compresa tra il 21 e il 27 settembre scorso evidenziano che per la nona settimana consecutiva i nuovi positivi sono cresciuti con l'indice RT di trasmissione del virus superiore a 1, il livello di guardia, in 12 regioni italiane. Aumenta anche il numero dei focolai attivi. Sono 909. Resta stabile la percentuale dei cluster sviluppati in ambito familiare. Sono il 76,5% e sono tutti derivanti da contratti stretti la gran parte dei nuovi positivi accertati in Puglia nelle ultime ore. 107 dei 146 cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente positivi al coronavirus hanno contratto l'infezione all'estero. E' quanto emerge dal report dell'Asde di Lecce che analizza l'andamento epidemiologico nei paesi della provincia salentina, raffrontando i dati dal 29 febbraio scorso a oggi. Scendono a 17 i paesi salentini che dall'inizio dell'epidemia oggi sono sempre stati covid free. Manca rispetto all'ultimo aggiornamento a Lessano. 250 ospiti del CARA, il centro per richiedenti asilo di Bari-Palese, sono in isolamento fiduciario, dopo che l'Asde di Bari ha accertato la positività al coronavirus su sette migranti. Stanno bene e sono asintomatici. In questi casi scatta il protocollo della Croce Rossa stabilito a livello nazionale. Le persone positive al tampone effettuato verranno trasferite in struttura dove saranno assistite e eseguiti fino alla negativizzazione. I tamponi sono stati eseguiti anche sugli altri 250 ospiti e sono tutti negativi, ma per precauzione è stato disposto l'isolamento fiduciario, in attesa anche di un secondo test di verifica che verrà svolto nei prossimi giorni. Gli accertamenti epidemiologici sono stati eseguiti anche sul gruppo di migranti sbarcato due giorni fa a Monopoli, di cui si attendono gli esiti. Intanto il governo valuta l'obbligatorietà della mascherina all'aperto sull'esempio di quanto avvenuto in Lazio, Sicilia e Campania. La valutazione potrebbe già avvenire nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri di lunedì, la stessa, in cui potrebbe essere prorogato fino al prossimo 31 gennaio lo stato di emergenza. Allo studio anche l'ipotesi di lockdown territoriali per contenere l'ondata epidemica.